Sì, buongiorno. Oggi siamo a Sugologone, nel territorio di Oliena, appunto, come è stato già detto in studio, per il G7 Scienze e Tecnologia, voluto fortemente dalla Ministra per l'Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Appunto, il G7 sulla scienza e sulla tecnologia per discutere dell'impatto che le grandi infrastrutture di ricerca hanno, sia sui territori che sulla ricerca scientifica. La scelta del luogo non è casuale. Infatti, a pochi chilometri da qui, da Sugologone, c'è il sito di Sosenatos, con l'ex miniera che è la candidata italiana a ospitare l'infrastruttura dell'Einstein Telescope, che è l'interferometro onde gravitazionali di terza generazione più grande mai costruito. Una candidatura che l'Italia si sta giocando con, concorrendo con il Limburgo, che è una regione al confine tra Belgio, Germania e Paesi Bassi, e che gode di maggiori infrastrutture rispetto all'area Sarba, ma che, a differenza di Sosenatos, non ha un silenzio sismico tanto apprezzabile. Quindi, la candidatura è sostenuta fortemente dal governo italiano, come ha avuto modo di dirci nell'intervista che vedremo tra poco, anche la ministra Anna Maria Bernini, ma è sostenuta fortemente anche dal governo regionale. Vediamo dunque nel prossimo intervento le interviste, appunto, alla ministra Anna Maria Bernini e alla presidente della regione, Alessandra Todde. Per quanto ci riguarda, non sono solo parole, abbiamo messo sul tavolo 1 miliardo e 300 milioni, 800 e rotti milioni di fondi nazionali, il resto di fondi regionali, diciamo che lo Stato e la regione marciano di pari passo, si stanno muovendo insieme, la presidente Todde sta collaborando con noi esattamente come il presidente Solina sta fatto quando abbiamo iniziato tutto questo, perché l'interesse nazionale si fa in Italia, ma anche fuori dall'Italia. Quindi vogliamo che questa parte della Sardegna diventi glocal, mantenendo le sue caratteristiche, ma portando il mondo, la scienza, l'innovazione in Sardegna. È un modo eccezionale per poter dire al mondo che la Sardegna è pronta ad accogliere l'Einstein Telescope ed è pronta a farlo non solo per le caratteristiche uniche del sito e della comunità scientifica, che in questo momento sta supportando questa iniziativa, ma soprattutto anche della regione, che è stata conseguente. Noi abbiamo stanziato in posta di bilancio i 350 milioni che erano necessari per la candidatura, abbiamo fatto un'unità di progetto che si occupa in maniera specifica dell'Einstein Telescope e dello sviluppo di questa zona, delle zone interne. Abbiamo fatto in modo di essere conseguenti e questo anche per la politica nazionale è una novità. Io voglio ringraziare la ministra Bernini che si è dimostrata lungimirante nel volere organizzare questo G7 e questo è un'unità di progetto che si occupa in maniera specifica dell'Einstein Telescope ed è bello quando le istituzioni riescono con un obiettivo unico a lavorare insieme. Ecco, e fin qui il punto della ministra e della presidente della regione. Vediamo ora l'intervento ai nostri microfoni di Alessandro Carbini, il direttore dell'INFN Sardegna. La Sardegna è un luogo, diciamo, fantastico dal punto di vista scientifico, abbiamo un sito estremamente stabile dal punto di vista sismico, abbiamo una bassa antropizzazione. Noi dobbiamo costruire un'infrastruttura che deve guardare l'universo, ascoltare l'universo lontano. Abbiamo bisogno di un posto silenzioso e la Sardegna, come abbiamo già misurato, è veramente il posto ideale. Sì, e queste erano le interviste che sono state raccolte questa mattina. Il G7 Scienze e Tecnologia prosegue poi questo pomeriggio con la visita al sito di Sosenatos da parte delle autorità e dei sindaci del territorio. Vi diamo la linea e siamo qui per qualsiasi aggiornamento.